Buonasera, stasera argomento normo-paranormale, voglio parlare del covid, non perché mi permetta di dare un'immagine paranormale a questa tremenda malattia, a questo virus che ci ha colpiti in quest'annata, ma proprio per il contrario, perché io di solito non discuto mai di cose di attualità, non ho neanche la televisione in casa, non seguo i tg, non seguo i giornali, non mi interesso assolutamente dell'andazzo della vita quotidiana umano-terrestre e materiale, ma ho letto delle scempiaggini in giro su certi gruppi, su certi account, che sinceramente, alla fine, stare zitti risulta abbastanza impossibile, per chi ha almeno un bricciol di capacità ragionativa. leggo cose tra le più stupide che possano esistere, da un dio che sta pulendo il mondo da persone che andavano tolte, a punizioni per noi perché abbiamo fatto chissà che quali impiaggini negli ultimi secoli, a un virus alieni arrivati attraverso qualche meteora, poi i più deficienti sono quelli che sostengono che il virus sia stato buttato fuori direttamente dai capi di governo per sottometterci maggiormente o per distruggerci o per far fallire la propria economia, io veramente queste cose non le posso leggere sinceramente, ho la mia poca stima verso la razza umana quando leggo queste cagate e soprattutto a livello complottista, poi veramente meno male che non sono un uomo perché mi scenderebbero ad ondolare togni 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 per il pavimento, i virus in natura ci sono, peraltro il covid è un virus così come anche l'aggravante della SARS che è un virus concomitante che in natura esiste e c'è, non non è stato fatto in laboratorio, non lo hanno creato degli scienziati pazzi, non lo ha creato nessuna casa farmaceutica per poi vendere il vaccino in seguito, non è arrivato con un asteroide, non lo ha mandato nessun dio, è semplicemente un virus o meglio sono due virus che in natura esistevano già e siccome la natura è predisposta all'evoluzione di qualsiasi forma vivente e i virus che vi piaccia o no come anche i batteri sono esseri viventi, sono propensi alla mutazione e all'evoluzione personale, questo cosa significa? Significa che più la razza umana nel nostro caso crea difese nuove fisiche e non fisiche quindi anche chimiche via dicendo medicinali eccetera per certe tipologie virali e più i virus evolveranno abituandosi a quelle specifiche di combattimento chiamiamole così. Dall'uomo della preistoria dall'uomo erectus all'uomo sapiens fino ad arrivare all'uomo sapiens sapiens che siamo noi anche se le sapiens sappiamo molto poco, siamo evoluti. Darwin sosteneva che anche le giraffe, i piselli, mi ricordo questi due esempi dalle medie e altri, gli altri animali e le altre piante si siano evolute nel corso dell'esistenza umana, è pura scienza, non c'entra niente né con i complotti e né tantomeno con divinità astruse che vogliano punire qualcosa o qualcuno. La genetica studia proprio l'evoluzione dell'essere vivente, l'evoluzione della specie. Ho nominato prima Darwin perché fu uno dei padri fondatori dello studio della genetica. I due contrapposti erano Darwin e Mendel. Darwin più conosciuto purtroppo per cose come ad esempio il programmino di Ciao Darwin o robe del genere perché altrimenti la gente non sapeva neanche a momenti chi è. Mendel è un po' meno conosciuto perché non ci hanno mai fatto un programma televisivo che si chiamasse Mendel. Però erano due genetisti padri della genetica proprio che studiarono a fondo l'evoluzione delle specie stabilendo poi due teorie differenti sull'evoluzione possibile appunto di tutte le specie esistenti. Mendel sosteneva che nel mondo ci fossero già determinate razze di più criteri. Ad esempio, Mendel per fare l'esempio pratico quando espose la sua ricerca sostenne che tra le giraffe esistessero giraffe a collo lungo e giraffe già a collo corto ma che trovandosi poi in un periodo di carestia dove non si arrivava al cibo le giraffe dal collo lungo sopravvissero perché arrivavano più in alto a mangiare mentre quelle dal collo corto morirono di fame. invece Darwin sulla stessa onda dell'esempio di Mendel dichiarò che invece a suo parere la razza delle giraffe si fosse evoluta quindi fosse nata a collo corto ma per la necessità di arrivare sempre più in alto il suo collo si è allungato. Ecco io sono più darwiniana sotto questo punto di vista credo molto nell'evoluzione della specie anche perché basti pensare a come erano ancora pieni di pedi addosso i nostri bisnonni e a come invece la nostra generazione anzi la nostra no perché io sono già vegetta a 46 anni ma le generazioni nuove siano molto più speracchiate anche proprio a livello maschile questo perché anche il pelo era una componente necessaria quando i corpi erano nudi man mano che noi ci siamo rivestiti di tessuti e stoffe e andando avanti creando poi tessuti sempre più compatti fino arrivare ai giorni nostri dove i tessuti sono acrilici sono sintetici e via dicendo il pelo in generale non sto parlando di una cosa porno è il pelo addosso non il pelo specifico che tira più del carro di buoni è diventato inutile e quindi l'essere umano pian piano lo sta perdendo è un discorso appunto naturale in natura accade questa concatenazione e in natura i virus e i batteri evolvono in nuovi virus e nuovi batteri o meglio si abituano si abituano alla situazione che per loro è diventata tossica fino a superarla questo succede anche nell'essere umano nel medioevo e anche prima anche ai tempi degli antichi egiziani usava molto tra i nobili tra i ricchi per esempio abituarsi a piccole dosi di veleno come cianuro o come non mi ricordo l'altro che se prese regolarmente a dosi minime abituavano il corpo a sopportare l'effetto velenoso veniva fatto perché perché si diventasse quasi immuni a un possibile avvelenamento appunto da cianuro o da altre tipologie di veleni perché il corpo si abituava proprio al veleno e quindi anche se si abituava alle piccole dosi la botta anche più grossa nel tentativo di uccidere diciamo che creava un effetto più soft perché il fisico in qualche modo era abituato a quella sostanza era una pratica diffusissima già appunto dagli albori già dall'antico egitto quindi si parla di oltre 2 3 mila anni fa il virus fa la stessa cosa quando un virus non riesce più a sopravvivere su una specie evolve e cambia di modo da poter garantire la sua stessa sopravvivenza perché comunque non è in senso pensante non è che il virus pensa oggi mi alleno alla rocchi balboa per salvarsi ma è una cosa automatica è una cosa naturale genetica quindi io non sono una virologa e non mi permetterei mai di dare giudizi in merito a questo do semplicemente la mia opinione la mia opinione che comunque questo virus come tante ondate di pandemie che ci sono state nella storia si ricorda quasi sempre sul web la pandemia dalla spagnola dei primi del novecento ma andando a ritroso nel tempo la peste stessa la peste nera fu una pandemia andando ancora più a ritroso nel tempo ci fu il sudore inglese che era una pandemia e peraltro tremenda perché uccideva nel giro di tre ore la persona quindi peraltro il virus inglese durò una cosa come 66 anni di pandemia parliamone però oggi ho la tosse la tosse normale da sigaretta e giuro non è virus però era un'epoca tra il 1300 e il 1400 nella quale non esisteva una scienza che studiasse la genetica una scienza virologica una scienza in medicina che studiasse i vaccini i vaccini sono una cosa fondamentale a dar de chap scusate agli antivaccinisti come ai negazionisti che per me per me dovrebbero firmare un bel foglio con su scritto se poi mi sento male non dovete curarmi timbrato perché io fossi un medico che rischio la vita in ospedale tutti i sacrosanti giorni oggi come oggi perché non so come può andare a finire con questo virus mi sento dire che il virus non esiste io fossi io io non ti curo io ti faccio morire fuori dall'ospedale altro che non esiste poi sempre tornando al discorso genetico le ultime ricerche almeno per quanto ho letto in giro per il web nei siti ufficiali nei siti seri non nei siti cretini iscritti da gente cretina sembrerebbe che il collegamento dello sviluppo della sars cov2 che è quello che poi porta la polmonite mortale nel caso del covid 19 sia più propenso a innescarsi in persone con una genetica particolare ma non c'è nulla di comprovato questo però spiegherebbe perché alcune persone che non avevano patologie pregresse abbiano comunque sviluppato questa polmonite fulminante questa sars perché non è il covid 19 in sé che uccide che fa venire la polmonite ma se una persona prende il covid è propensa a assimilare in contemporanea anche il sars cov2 che è un ulteriore virus che si va a collegare al covid 19 le malattie pregresse la la frasetta o l'articolo di giornale che recita che la persona è morta ma non aveva malattie pregresse anche lì mi lascia il tempo che trova perché perché non puoi sapere sempre se hai delle patologie pregresse io ho un amico che ha 50 anni e ha scoperto da neanche 3 4 anni che è nato con un rene solo lui per 47 anni 46 anni non ha mai saputo di avere solo un rene era convinto di averne due questo perché perché non c'è mai stata una condizione patologica grave da fargli verificare quel punto del suo corpo e voglio dire stiamo parlando di un rene intero quindi dire non aveva malattie pregresse non significa nulla a meno che questa persona poco prima del covid non si fosse fatta un check up completo ma completo e non avesse riscontrato niente di anomalo neanche una leggera disformazione della orta cardiaca o due calcoli renali o qualsiasi altra scemata che ci possa avere non puoi dichiarare che non avesse patologie pregresse poi che non le avesse gravi tanto da fargli trovare è un altro paio di maniche ma magari la patologia pregresse c'era solo che era leggerissima e nessuno se n'è mai accorto quindi prendiamo la bassa con ma era sano non aveva niente gli hai fatto un attack no allora soltanto perché conoscevi la persona non puoi dire che era sano perché se non gli hai fatto un attack completa con contrasto non puoi sapere se lo fosse e peraltro l'attacco giusto entro il mese due mesi prima perché se l'aveva fatta tre anni prima non aveva niente non vale tra le altre cose è un po come quelli che mi sparano ogni tanto che le medicine fanno male che si viveva meglio quando si viveva peggio e tutte quelle grandissime cagate lì quando non c'erano le medicine la vita media arrivava a 70 anni e a 40 sembravi mio nonno oggi che ci sono le medicine la vita media arriva a 90 anni covid permettendo in questo periodo ma in generale e la faccia dei 50 anni sembrano i ventenni già dell'epoca di mio padre poi se andiamo a ritroso nel tempo ciao ciccia proprio quindi non si stava meglio quando si stava peggio si sta meglio ora che ci sono le medicine che ci sono i vaccini che ci sono dei medici con due palle così che si prodigano per noi discorso medici io vedo degli attacchi in televisione no perché io non ho la televisione ma ho la possibilità a volte quando vado a casa di determinate persone o per lavoro o per situazioni nelle quali mi trovo a dover andare a trovare qualcuno a volte guardano certi programmi certe cose e sono lì me casca l'occhio ora ultimamente ci si lamentava tanto del fatto che i medici non ti toccano finché non hanno in mano il test che dichiara se c'hai il covid o no ma ha giusta ragione ma un medico deve rischiare di morire non ho capito cioè un medico non ha fermato nessun foglio dove dichiarava di morire al posto di qualcun altro è ovvio che debba col suo lavoro tentare di salvare la vita degli altri quello è il suo lavoro ma salvare la vita degli altri non ha scapito della sua purtroppo la regolamentazione è quella lo sbaglio non lo fanno i medici che aspettano il risultato del tampone lo sbaglio lo fa quello che fa uno starnuto e va al pronto soccorso perché si sta cagando sotto quello che ha 37 di febbre e chiama la croce e si fa portare a pronto soccorso quando le specifiche dichiarano che se supponi anche solo alla lontana di avere un qualcosa a che fare col covid ti devi cura a casa a meno che tu non abbia già la crisi respiratoria in atto e anche in quel caso ci sono delle unità speciali che chiamate ti intubano con tanto di ossigeno a casa senza andare a intasare i pronto soccorsi perché il pronto soccorso non dovrebbe essere atto al covid ma dovrebbe essere atto a incidenti e ad altre patologie che poi non possono essere curati perché c'è pieno di gente che è andata lì per il covid muoiono come è morto il signore in macchina come è morto l'altro signore per strada come è morta l'altra donna prima di arrivarci quell'altra che aspettava e via dicendo che avevano altri tipi di patologie perché non c'era posto magari tra i ricoverati c'era quello che aveva 38 di febbre e quello che aveva due starnuti e quattro colpi di tosse insieme con quelli gravi anche perché? perché aveva paura ed era convinto che al pronto soccorso lo salvassero meglio peraltro errore madornale perché se chiami l'unità a casa ti sostiene in tutto e per tutto se vai al pronto soccorso non hanno neanche un buco ti cagano in terra con un sacco a pelo e se riescono ti guardano quindi ti salvi notoriamente di più se te ne resti a casa discorso diffusione ognuno la veda un po' come vuole io da una parte trovo assurdo che se giro da sola lontano da tutti per i cavolacci miei in campagna devo portare la mascherina che non mi serve assolutamente a una mazza anche perché le mascherine servono a poco anche faccia a faccia d'altro canto trovo inconcepibile che la gente si fissi sulla mascherina pensando che con quella può uscire a farsi i cazzi suoi e qui lo dico proprio chiaro a farsi i cazzi suoi sento gente che si lamenta che la televisione ripeto io non ce l'ho quindi non so non guardo la televisione ma sento gente che si lamenta dicendo che stanno facendo terrorismo mediatico parlando sempre di queste cose per spaventare le persone ma allora la mascherina come le altre accortezze come i guanti come il gel o quello che volete sono stati messi d'obbligo e all'inizio consigliati per evitare maggiormente i contagi ma non per darvi la possibilità di uscire lo stesso a chiacchierare con le vicine con la mascherina eh ma io c'avevo la mascherina cazzo c'entra tu la mascherina la devi mettere se sei costretto a uscire per lavoro per necessità primarie non per andare a far due chiacchiere con la vicina lì non ci devi andare né con la mascherina né senza te ne devi stare in casa finché c'è questa pandemia quando hanno dato il via libera per in qualche modo tornare un po' alla vita normale quest'estate il via libera è stato dato per aiutare un minimo l'economia che si stava sfrangiando la gente ha pensato bene di poter andare 15-20 giorni in ferie all'estero dove gli pareva perché ah siamo liberi non avete capito un cazzo dovevate poter uscire un po' di più per sostenere i negozietti sotto casa vostra non per andarvene alle maldive che poi anche lì chi è andato in feria era chi piangeva tanto miseria e cose e poi è andato in feria appena hanno riaperto tutto ma eppure boh l'economia va aiutata ma ci dobbiamo aiutare tra di noi dentro di noi ognuno deve aiutare il vicino non pensare a se stesso nel senso se per un anno non andate in ferie non muore nessuno se per un anno non chiacchierate con la vicina se è meglio il dash o il dixan che è sempre la mia frase retorica perché io quei discorsi li detesto ma anche ammesso che a uno piaccia parlare di dash e di dixan con la vicina per un anno non ci chiacchieri con la vicina i telefoni se vuoi parlare con la vicina quello era il senso l'apertura estiva doveva servire per smuovere e riaprire le attività commerciali che avevano subito dei danni i parrucchieri i ristoranti le pizzerie i bar ma non significava allora teoricamente potevi tornare dal parrucchiere e farti i capelli ma non per andare poi a far serata con gli amici sulla spiaggia te facevi i capelli e basta te ne tornavi a casa ecco invece siccome il popolo occidentale si nota sempre la mia grande stima verso il mio popolo occidentale e qui noi in Italia come hanno dato il via libera eravamo tutti fuori a fare un'estate normalissima in compagnia tutti insieme tutti e la pandemia era ancora in atto non è lo stato che ci ha rovinato siamo noi che siamo andati subito con i nipotini a trovare i nonni a casa e poi abbiamo sterminato i nonni che mia madre che ha 75 anni non la vado a trovare in casa non glielo porto il nipotino se so che rischia non me ne frega niente che il presidente del consiglio il presidente di Vattelapesca mi dica oggi puoi uscire io per mie caro mio non ce lo porto comunque finché non ho la certezza che questa pandemia sia finita ma tornando al discorso paranormale l'unico accenno di paranormale che mi è piaciuto quest'anno proprio legato al discorso pandemia e covid è stato quello dell'arcivescovo in Sud America che si era sbizzarrito tanto dicendo che il covid era stato addirittura mandato secondo lui per punire le unioni civili e i gay l'arcivescovo sudamericano è morto di covid ecco io non credo che ci sia nessun dio ma in quel caso l'universo ha beccato benissimo e lo so forse è brutto da pensare che qualcuno si meriti tanto ma quando si dice un'impiagine del genere l'unica cosa che puoi pensare è te la sei proprio tirata addosso e ti è arrivata tutta come una valanga e te lo sei meritata anche se ripeto normalmente io non sono abituata a giudicare ma in effetti non sto giudicando sto semplicemente dicendo quello che dico sempre che sarei tirata addosso da solo perché pensando che alcune categorie meritassero un qualcosa sarei tirata su se stesso quindi alla fine è la legge che dichiaro sempre della causa effetto del pensiero per quanto riguarda le energie dell'universo chiudo questa parentesi non era paranormale ma anche se appunto volevo smentire le belinate che cercano di appioparci del paranormale anche era doveroso da parte mia secondo me dare la mia opinione poi chi vuole l'ascolta chi non vuole liberissimo di opinarla io torno a ripetere per me un negazionista dovrebbe lasciare un foglio scritto nel quale dichiara di non essere neanche curato nel caso in cui si ammali così lascia il posto a chi invece ci credeva e ne aveva paura e purtroppo se l'è presa perché se andassero un po' invece che parlare fra i leoni da tastiera andassero a vedere come sono le situazioni negli ospedali e la paura che hanno i medici stessi e gli infermieri e gli osse e tutto ciò che gira intorno alle cure mediche cambierebbero opinione detto questo vi saluto vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dove io sono in giro per i vari social e vi ricordo che ancora più sotto ci sono tre dei mille milla link che vendono le librerie che vendono online e anche materiali i miei libri ad oggi tre usciti al momento non ho nient'altro da aggiungere da domani probabilmente tornerò con le mie rubriche solite normali e dimenticherò completamente il discorso materiale odierno che ho fatto oggi ciao ciao